Il ritorno a casa Quando Lino rientrò a casa, lo fece in condizioni di salute chiaramente non eccellenti. Dovette rivedere le sue vecchie abitudini, condurre a una vita più tranquilla e recarsi in un centro di riabilitazione motoria due volte alla settimana. Le gambe stavano riprendendo lentamente a funzionare, ma non poteva fare sforzi, riposando il più possibile. A parte strimpellare con la chitarra il pomeriggio, conduceva a una vita che aveva poco a che fare con la musica e gli si presentò quindi l'occasione di leggere molto, soprattutto quei libri che si era sempre ripromesso di leggere e per i quali non aveva mai avuto tempo. Dal 1976 in poi, infatti, andava al ritmo di un album all'anno con relativa tournée e dopo «E io ci sto» del 1980 era stato impegnato con il Coo Concert in compagnia di Riccardo Cocciante e successivamente con il Pinocchio di Carmelo Bene. Sembrava quasi che solo ora, dopo l'agonia delle lunghe giornate in ospedale, stesse sfruttando il lato positivo dell'incidente, il riposo e la possibilità di leggere. Quando si trovava ancora in ospedale, mentre scriveva i testi delle sue canzoni per farli leggere a Dante, arrivato al verso «Le letture a Pavese, Ginsberg e De Gregori» della canzone «I miei sogni ed anarchia» ricordò di avere oltre chiaramente a tutti i dischi dell'amico Francesco De Gregori qualcosa di Pavese e Ginsberg. Quest'ultimo, poeta statunitense della Beat Generation, aveva scritto una poesia che a detta di Michele aveva più o meno lo stesso spirito di «Non treghe chiù». Ora che finalmente poteva togliersi questa curiosità, scoprì che c'era qualcosa di vero. Marino era rimasto accecato come se fosse stato un bagliore nel leggere il poema di Ginsberg basato sull'esperienza dell'autore e su quella della comunità di poeti e artisti, politici radicali e musicisti jazz, drogati e pazienti psichiatrici che aveva incontrato e conteneva anche un lamento nei confronti dello Stato americano. Inutile dire che i testi di Rino avevano molto in comune con gli scritti di Ginsberg e la lettura risultò piacevolissima. Pensò che, come Ginsberg incontrò Karl Solomon in un ospedale, anche lui aveva incontrato Dante e Sabini, guarda caso, in un ospedale. Come fece Ginsberg con Solomon, anche lui aveva condiviso speranze, esperienze e paure con Dante. Il poema, dopo un lungo processo per l'accusa di ocenità, fu riabilitato e ritenuto di importanza sociale riedificante. Anche Rino sperava che le sue canzoni potessero essere considerate di importanza sociale riedificante un domani. La lettura di Howe era, in un certo senso, una rivisitazione della sua stessa opera in chiave beat e non tre in quel momento stava applicando una pratica alla base della poetica di Ginsberg, l'autoemarginazione come processo transitorio di purificazione. Sentiva, infatti, che l'occasione di solitudine data dalla convalescenza aveva offerto l'opportunità di fare chiarezza con se stesso e allontanarsi, con la scusa della salute, dai meccanismi della società che, come Ginsberg, non riusciva più ad accettare. Di Pavese aveva conservato gelosamente in un cassetto il romanzo La casa sulla collina ed era rimasto affascinato dalla frase «Il coraggio di starsene soli come se gli alberi non ci fossero e pensare soltanto alla cosa che fai» ed in tal modo si accetta la storia e gli altri. Interruppe la lettura per posarsi il libro sul torace. Fissò il soffitto e sulle note di un 40 giri di Bob Dylan cominciò a pensare a quella frase, apparentemente confusa ma contenente una verità lapalissiana. Come trovare il coraggio di starsene da soli e accettare la storia? La storia, lui, l'aveva scritta e cantata, come in Aida, l'aveva ripudiata, come l'episodio della morte di Vilma Montesi sulla spiaggia di Capocotta citato in «Non te regge più». L'aveva in qualche modo sbeffeggiata, come sfiorivano le viole, ma stava cominciando a pensare di non averla mai accettata. Era forse ora di cominciare a farlo e se la contemporaneità il giorno dopo diventa già storia, allora si poteva dire che Rino addirittura l'avesse odiata, sostenendolo con forza nelle sue canzoni. Cosa significava accettare la storia e quale in esso c'era con l'essere soli, anzi, con il voler star soli. Forse, stando soli e pensando a quello che si fa, non si ha tempo per pensare agli altri né alla storia, quindi la si accetta, e se Pavese avesse usato il verbo «ignorare» anziché accettare, non sarebbe cambiato molto. Mentre rimuginava su tutte queste cose, Rino si accorse che stava proprio mettendo in pratica quello che aveva detto Pavese. Leggendo, stava solo pensando a quello che stava facendo, ignorando tutto il resto intorno a lui, compresi gli altri e la storia. Nei giorni seguenti, Alice organizzò alcune cene con amici. Le cerchie si erano piuttosto allergate, giorno dopo giorno. Ormai comprendevano anche persone che avevano poco a che fare con Rino e sopportava malvolentieri la loro presenza. Le sue giornate assunsero contorni piuttosto netti, a partire dalla seduta di fisioterapia, nel centro in cui aveva stretto delle amicizie interessanti, anche dal punto di vista culturale. Apprezzava i fisioterapisti e gli altri infortunati, perché non gli chiedevano mai cosa volesse fare con il suo futuro, a differenza dei commensali serali, poco graditi, che erano soliti proporre sempre domande del tipo «Ma quando è il prossimo album? Quando riprendi a suonare? E quando farai una conferenza stampa?» La risposta di Rino era sempre un netto «non lo so». Nonostante i commensali poco graditi erano convinti fosse un modo per non divulgare informazioni, Rino era molto sincero, davvero non lo sapeva, inconsciamente attendeva il risponso di Dante sui suoi testi, gli aveva lasciato circa un mese di tempo per leggere tutto, prima di andare a trovarlo in ospedale. Durante le scene lunghissime, con Alice, Anna e altri commensali, Rino parlava pochissimo e sperava che finissero il prima possibile per poter tornare ai suoi libri e mettere in pratica l'insegnamento di Pavese. Quando era solo in casa e preparava il caffè, fra una lettura e l'altra si sentiva come mai prima di allora e non ricordava di aver provato quella sensazione in precedenza, né con i concerti né con le registrazioni e né con le conferenze stampa di presentazione degli album. Un giorno si fermò a riflettere su un'altra frase di Pavese, che aveva trovato in un libro di aforismi. In fondo, l'unica ragione perché si pensa sempre al proprio io è che col nostro io dobbiamo stare più continuamente che non con chiunque altro. Si rendeva conto che stava dedicando tempo al suo io e la cosa lo rendeva felice. Quando pensava al suo stato d'animo in presenza di altra gente, si accorgeva che il ritorno sulla scena e di conseguenza alla popolarità era molto lontano. Doveva lasciare i suoi libri e la sua caffettiera per andare a fare interviste, parlare con i discografici e suonare in piazza era l'ultima cosa che volesse in quel momento. Arrivò il giorno dell'incontro con Dante, il giorno del risponso del suo oracolo. Rino voleva sapere da lui se fosse riuscito a trasmettergli qualcosa che avesse un inizio e una fine, se si potesse idealmente ritenere conclusa la sua esperienza musicale o se mancasse ancora qualche tassello alla chiusura del cerchio. Riteneva che l'opinione di Dante servisse quasi a convincerlo definitivamente. Come se in un certo senso quell'uomo, con il suo fare umile e l'esperienza di vita sconfinata, fosse portatore della verità che Rino stava cercando e alla quale si stava comunque avvicinando. Quella mattina, dopo la fisioterapia, invece di tornare a casa in autobus come era solito fare, si recò al reparto di traumatologia cranica del policlinico e dopo aver salutato tutti, ben contenti di rivederlo, si diresse verso la stanza di Dante. Mentre percorreva il lungo corridoio, Rino pensò a un proverbio africano letto quella mattina. Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. In quella sua ritrovata fisicità capiva la differenza fra camminare sulla strada e conoscerla. Dante conosceva la strada e fra poco avrebbe confidato a Rino il modo migliore per percorrerla. Era come se stesse andando incontro al suo stesso destino, alla sua vita post-incidente. La svolta allora non era più l'album «E io ci sto», ma l'incidente stesso. Arrivato alla porta della stanza di Dante, sbirciò dentro, ma non trovò volti conosciuti e decise di chiedere a un'infermiera che passava di là. «Scusi, cercavo il signor Dante e Sabini. È ancora ricoverato in questo reparto?» «Il nome non mi è nuovo, ma mi faccia controllare con il collega». Rino si sedette su una sedia della sala d'aspetto e attese il ritorno dell'infermiera, che non tardò ad arrivare. «Sabini Dante, di anni 81, ricoverato a seguito di una caduta accidentale in casa?» «Esattamente. Mi hanno appena confermato che è deceduto circa una settimana fa. Mi dispiace». Rino rimase in silenzio per qualche minuto e poi ringraziò sommessamente l'infermiera. Mentre con il capocchino lasciava l'ospedale e si avviava verso la scala dell'uscita, la donna lo chiamò. «Scusi, lei è il signor Gaetano?» «Sì, sono io. Perché?» «Il signor Sabini ha lasciato questo biglietto per lei, qualora non ce l'avesse fatta a riceverla di persona». Rino aprì il biglietto solo quando uscì dall'ospedale e lesse «Nel mondo non si ha altra scelta che quella fra la solitudine e la volgarità. Grazie per la tua poesia, ragazzo». La frase di Dante lo aveva destabilizzato almeno quanto la notizia della sua morte. Ora doveva interiorizzarla. E chissà se i suoi nuovi amici, i libri e il caffè, lo avrebbero aiutato. Ci doveva essere a tutti i costi qualcosa di vero in quelle parole, nate dopo la lettura dei suoi testi, e che in qualche modo erano anche frutto della sua creatività, o almeno l'espressione di un risultato derivante da essa. Cosa intendeva Dante con «volgarità»? Si riferiva alla celebrità e alla mondanità, all'essere famoso e allo stare in contatto con ogni tipo di umanità, quindi di volgarità. La solitudine che intendeva Dante era la stessa che Rino stava vivendo fra libri e caffè. Lasciò questi pensieri per il ritorno e, con un magone legato alla scomparsa del suo amico, prese il 60 notturno, di cui conosceva tutte le coincidenze. Di ritorno a casa, decise di raccontare tutto ad Alice, che non conosceva Dante di persona, ma sapeva che il fidanzato aveva scritto tutti i suoi testi sul tacuino per qualcuno. Ultimamente i due si erano lasciati andare da alcune incomprensioni, proprio per via dell'atteggiamento di Rino che Alice non riusciva a capire fino in fondo. La ragazza rimase molto turbata dalla storia, ma ora che tutto era più chiaro, iniziò a comprendere la voglia di solitudine di Rino. Dopo aver dato un'occhiata alla frase sul bigliettino, si ricordò di averla già letta. Era un filosofo tedesco dell'Ottocento, molto famoso, di nome Arthur Schopenhauer, ed era contenuta in un'opera che esprimeva il manifesto del pensiero del filosofo dal nome Parerga e Paralipomena, e cioè Tralasciati e Accessori. Quando Rino venne a conoscenza di questo particolare, nel pieno della sua crisi di lettura, non aspettò molto per comprare il libro e immergersi tra le sue pagine, con la consapevolezza che oltre ad avvicinarsi a Schopenhauer, si sarebbe anche avvicinato all'umiltà del compianto amico Dante. Trovò il volume presso una libreria vicino a casa, e in quello stesso luogo si accorse della presenza del suo 33 giri. «Resta, vile maschio, dove vai?» Gli adde un'occhiata molto veloce, e come se volesse scappare, si avviò velocemente verso la cassa, senza guardare in faccia nessuno, per paura di essere riconosciuto. Capì poi, da quel gesto istintivo, che la sua decisione definitiva era molto, molto vicina. Mentre tornava a casa, Rino ripensò a «La casa in collina» che aveva letto da poco, il cui protagonista, un professore di Torino, passava le giornate girovagando in cerca di un luogo tranquillo, al riparo dalle bombe della guerra e dalle preoccupazioni, e si rese conto che anche lui iniziava a sentire l'esigenza di cercare un luogo accogliente e riparato, dove difendersi da tutti i suoi pensieri. Ben presto lo avrebbe trovato. Aveva accantonato tutti gli altri libri, per dedicarsi anima e corpo al volume di Schopenhauer. Mentre era steso sul divano con parerga in mano, la televisione accesa passò la notizia del suo silenzio, e mentre scorrevano sullo schermo le immagini dei suoi concerti e video, il giornalista raccontava al pubblico gli sviluppi della vicenda. Non si hanno ancora notizie del cantautore Salvatore Gaetano in Arterino. Dopo essere stato convolto in uno spaventoso incidente lungo la via Nomentana a Roma, dal quale si è miracolosamente salvato, e aver trascorso diversi mesi al Policlinico Umberto I, il cantante non ha rilasciato interviste e ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ha chiesto a Emilia di rispettare il silenzio, ma la curiosità dei fan e di quanti lo seguivano da tempo cresce a dismisura. Il mondo della canzone si chiede se abbia intenzione di ritornare all'improvviso sulla scena musicale con un nuovo album o di continuare questo silenzio stampa ad oltranza. Nel frattempo sono stati cancellati tutti i concerti fissati prima dell'incidente, inclusi quelli previsti in giro per l'Italia insieme ad Anna Oxa. Nel frattempo suonarono alla porta. Rino si alzò dal divano con molta calma, indossò la vestaglia e sempre con dentezza, trascinando le ciabatte, si avvicinò verso la cucina e accese il fornello sotto la caffettiera già pronta. Aprì la porta, felice di vedere la sorella Anna insieme al piccolo Alessandro, suo nipote. Anna ricambiò l'entusiasmo del fratello, sentendo l'aroma del caffè che iniziava ad uscire dalla caffettiera. Noto con piacere che, come se sapessi che stavo arrivando, hai già messo su un buon caffè. Bravo!